Ciao, termosifoni? Ci sono? Da me no, cioè ci sono ma non funziona. Dai, posagli usci, ti preparo un cappuccino. Grazie. Nescafè Cappuccino, gusto intenso e morbida schiuma. Buono. Ciao. Ciao. Lui è il nostro vicino, gli si è rotto il riscaldamento e quindi... Magari è freddante dalle ragazze di sopra. Bello qua. Nescafè Cappuccino, basta un attimo per sentirsi più vicini. Che c'è per cena? Per cena? Invita un vicino per un Nescafè, vinci una vacanza. Grazie.